partite le cavalle del premio buon talenta 2020 più lenta a partire no mazdamur la più svelta come da copione è proprio musa d'oriente che da uno steccato largo punta dritta verso la testa della competizione haven park si sistema in seconda in terza troviamo la giubba marrone con il cap bianco di dorotea precedere visions riconoscibile dalla giubba gialla al cui interno gravita quella della blue berry vale a dire i fracci all'esterno c'è l'altra giubba verde di stella di mantova a precedere chiaro di luna con la giubba blu le maniche rosse e la giubba rossa con la v gialla di romanzdamur a completare il quadro cavalle che con un ritmo piuttosto deciso sono già tre quarti della curva con musa d'oriente che sta cadenzando il ritmo dorotea che si è sistemata nella sua scia in terza posizione la favorita haven park che lascia in quarta i fracci poi al suo esterno anche stella di mantova visions che va per corsia interna e ancora chiaro di luna e romanzdamur a completare il drappello delle partecipanti siamo alle intersezioni delle piste si comincia ad andare ancora più in maniera decisa dorotea che va a premere proprio sulla stessa musa d'oriente ma ancor meglio fa haven park che si prepara dal centro la pista poi ancora i fracci che deve trovare lo spazio e forza un barco c'è stella di mantova con chiaro di luna che prova a far lo scatto dal centro la pista siamo a 300 dal palo musa d'oriente è aggredita da haven park che tende a convergere lungo la corda haven park che passa decisa in vantaggio quando manca 200 metri dal traguardo haven park che sta accelerando ulteriormente ma dal centro della pista si concretizza la minaccia di chiaro di luna che va all'attacco di haven park e la trova in difficoltà chiaro di luna che viene ad emergere nei confronti di visions che colleziona un ottimo secondo posto solo terza haven park ma vince chiaro di luna che qui a roma si trova in una maniera totalmente differente e vince così la corsa numero 4 in carriera carlo fiocchi in sella il training è quello di luigi di dio i colori della scuderia rosso blu grossa quota chiaro di luna era disponibile a 31 complimenti a chi l'ha presa haven park dopo un primo scatto è rimasta in difficoltà visions fa un ottimo secondo dopo qualche problema di traffico 1 8 3 è l'ordine d'arrivo ufficioso del buon talenta ma vince chiaro di luna una quota spaziale di 31 rivediamo di nuovo la ripresa attraverso la frontale che ci propone la nostra regia dal centro la pista con un finale veramente ad effetto chiaro di luna viene a beffare haven park e per il secondo emerge visions che non aveva avuto un percorso pulitissimo ripetiamo 1 7 e poi 3 per il buon talenta 1 7 e poi 1 8 Grazie.